Sta visualizzando l'elenco di teatri nelle vicinanze Zero Un dragone Un dragone Teatro Olimpico Roma Spiacente, riprovi Olimpico Roma Andate arriviamo a Roma Spiacente Non ho ancora capito Mi Maria, teatro Olimpico Roma R-O-M-A Dove sta il navigatore normale? Fancula Ma chi ti ci ha messo da un rob? Nob Chi aveva l'indirizzo esatto? Via Gentile da Fabriano Piazza Gentile da Fabriano Io sono di niente Ando bisando la carta Carta e penna Troni, non ci sono i paragoni Piazza C'era anche Bordovina Gentile da Fabriano Da Fabriano, sì Mo' potresti mettere il punto di interesse Dammi il civico Mo' potresti mettere il punto di interesse Ma non ci sono i paragoni Ma non ci sono i paragoni Non ci sono i paragoni No perché là è un problema Ah, per i sensi Perché i sensi unici Perché ci sono i paragoni Sì, piatta Gentile da Fabriano 17 C'è anche il caffo 18 15 No, no, no 18 No, 15 Sempre dispari 15 E' l'indirizzo Esiste, sì Ok E' l'indirizzo E' l'indirizzo E' l'indirizzo E' l'indirizzo E' l'indirizzo E' l'indirizzo 2 ore 2 ore 2 ore No Ah, ti sta portando alla nuova strada Ma si vengono Ma si vengono